Un viaggio attraverso la musica, i ricordi e il divertimento dello storico Tartana, grazie alla serata La Vostra Storia. A dieci anni dalla chiusura della discoteca, oggi tristemente abbandonata, quelle magiche atmosfere torneranno a vivere venerdì sera al Dancing Paradise La Pace, per un tuffo nel cuore e nel magico passato di un locale indimenticabile. Abbiamo deciso finalmente di creare una serata dedicata a questo noto locale della provincia di Arezzo, dei primi anni 80 fino agli ultimi anni 90, proprio per ricordare quello che è stato il locale con tutta la gente che l'ha vissuta, ci ha lavorato. È un modo per ritrovarsi partendo dalla scena per poi finire con la musica che è stato il simbolo del locale per quegli anni. Verrà allestito all'ingresso, cercheremo di allestire il più possibile con delle foto dell'epoca, chiaramente. Verrà messo in proiezione un video che ha ripreso negli anni 90 la storia della discoteca. La gente che viene dentro, magari, chissà, qualcuno si può anche rivedere. Il 17 ovviamente con i DJ che hanno fatto grande questo locale. Sì, praticamente, allora, i DJ sono Massimiliano Pipi DJ che con me farà, diciamo, una sorta di musica anni 90 nel quale poi io ho lavorato per otto anni qui dentro e Alex De Robertis che lui curerà più che mai la musica anni 80 di quell'epoca di quando è nato il locale. Grazie a tutti!